let's go benvenuti ovetti nell'ultimo episodio ignorando i vari dlc gratuiti che usciranno in futuro di mario golf super rush nello scorso episodio abbiamo affrontato e assolutamente sconfitto mi raccomando non lasciatevi ingannare dal vecchio video i miei rivali nella modalità online e in questo episodio proveremo la sfida solitaria perché perché è l'ultima cosa che devo provare inoltre non ho mai mostrato le ultime nove buche del vulcano di bowser quindi useremo bowser sul percorso di bowser e se non riesco a fare almeno un meno 7 mi arrabbio davvero tanto con me in ogni caso sì questo è l'ultimo episodio è inutile allungare ancora di più la serie qualche live come ho già detto magari in futuro ci sta e per futuro intendo anche potenzialmente domani non lo so come mi gira insomma però la cosa più importante da dire è che ormai abbiamo finito mi dispiace un po il non aver mostrato tutti quanti colpi speciali di tutti quanti personaggi per esempio non ho mostrato il colpo speciale di non lo so pauline ok ci arrivo sì che ci arrivo vai così con doppio backspin però perché un po di paura ai non sbagliarti o non posso davvero sbagliarmi ora pat per verdi così dovrebbe andare e vai bowser perfetto verdi comunque sì questo è l'ultimo episodio già basta vi ho già dato le mie varie impressioni a caldo quindi è inutile parlare adesso l'importante è concentrarsi sul finire il gioco non andare troppo in là forse un doppio backspin avrebbe giovato più di un backspin normale come 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 vuoi che io faccia quel colpo vabbè così in pratica o davvero davvero va bene va bene mi hai mentito sapendo di mentolo ok però almeno ho fatto un par e questo va bene che bello vedere che finalmente bowser non è cattivo ma in questo gioco è buono ed è una cosa bizzarra mi va bene assolutamente sì cioè figuratevi preferisco andare di qua sì ma con un doppio backspin il motivo non voglio andare in quel muro là quindi andremo prima qua forse potrei anche fare questo colpo sì perché no ma con doppio backspin come vi ho già detto quindi smash bowser non andare troppo lontano perfetto fairway veloce suppongo voglia dire stati attento mio caro tonksy boy e vai avanti allora il vento va di là quindi ormai possiamo dire di aver capito come si gioca questo gioco se non vado nel rough semi rough ok me la sono anche cercata un po io altezza simile davvero però è un po più alta quindi cosa dovrei fare forse questo colpo va bene forse no va più che bene ok sul green fa per verdi ok e ho invernizzi e ce la fa tonks ok a quanto pare quando non gioca in multiplayer e gioco da solo e ho tutto il tempo del mondo ce la faccio rilassarmi a parlare e a giocare anche attenzione ricordiamoci che qui è in salita quindi devo fare un backspin in questo modo con lo smash perché il backspin mi aiuta a fermarmi soprattutto sul fairway che è in pendenza davvero ok allora forse questa è la battuta ideale smash ok ok sul green ho imparato seriamente a giocare così pat per i verdi allora stessa altezza ma un po in pendenza quindi meglio fare un po più così basta troppo 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 ok lo sapevo che era troppo ma almeno abbiamo avvicinato un po di più la pallina e ho fatto un par ben fatto sto premendo il pulsante b per velocizzarmi giusto un po solo perché voglio vedere le ultime 18 buche e non le prime 9 allora possiamo andare direttamente qua davvero e se io volessi fare così beh potrei colpo meteora ci provo vai bowser meteor storm e si ferma dove o questo è una cosa eccessivamente importante gente a saperlo prima l'avrei fatto smash gran colpo dire quanto era vicina alla bandiera è un tappin no che non è un tappin però questo è un pa per il verdi quindi lo faccio lo stesso perché è un pa per il verdi e ho fatto un verdi bowser mi raccomando calmati un po della serie vabbè basta così adesso la fronte di bowser vento si e backspin e smash no ma il vento mi aiuta a correggermi un po ok perfetto sul green pat per il verdi verdi wow sto davvero facendo una speed run delle prime 9 buche ovviamente non è una speed run gente ma oh prima ho detto che volevo fare un meno 7 e quando è vero che non avverrà mai perché non ho ancora mai visto le prossime buche è vero anche che wow sta andando forse un po troppo bene va bene meglio non dire più queste cose perché altrimenti mi frego da solo e vediamo un po che succede adesso backspin ok il backspin mi ha comunque dato una mano qua mi ha raddrizzato un bel po backspin anche se forse non è la scelta migliore vediamo un po e invece sì green sul green papper verdi papper verdi verdi no ok 40 centimetri vuol dire che è un tappino ok fortuna che hanno messo la possibilità di fare un tappin immaginatevi senza la possibilità di fare il tappin e di a devo rilanciare posso sbagliarmi nessuno infatti vi vieta di non farlo è però attenzione vento di là allora ti dico che un bel backspin potrebbe andare bene smash ok backspin ovviamente roff ovviamente intero dove va davvero ok oh ci ho provato ci ho provato ce l'ho fatta oh sul green avessi fatto un po più a destra pat per il verdi verdi wow davvero sto riuscendo a fare siamo meno cinque gente ok questa dimostrazione che io so giocare attenzione no ma non importa va bene lo stesso per me meglio un po di backspin con il ferro e veloce a quanto pare se non mettete il backspin potresti uscire fuori visto visto non dimmi che adesso becco il muro ok no non becco il muro però dove siamo no aspetta devo fare un giro strano che è lo stesso giro che ho fatto l'altra volta e sono uscito per sbaglio l'altra volta quindi siamo attenti un po di backspin e vai non andare sulla roccia ok fairway fu questa abbiamo avuto mi ricordo di questa buca gente ok era stato difficile era stato difficile è italiano non lo so ma la pallina è abbastanza vicina ok sul green ma per verdi sì dato che la distanza è tanta perché no dai proviamo così vai wow davvero troppa potenza ok me la sono cercata anche un po basta davvero ok ok tap in peccato peccato per il bogie ma non importa ok seriamente non importa ho fatto un meno cinque mi posso permettere un bogie adesso queste sono le nuove buche non le abbiamo mai viste quindi vediamo un po la è in pendenza vero assolutamente sì ok e il vento va già di là quindi se va di là di suo meglio andare così bravissimo bowser in io in realtà no bowser in io sarebbe bowser junior ma pazienza o davvero ok no fermi mi sono appena accorto dell'errore ok così con lo smash non andare fuori ok per una volta non è andata fuori che succede tonks sta avendo un po di fortuna fa per verdi verdi e ho recuperato il bug di prima dai così bowser dai così questa qual è l'ultima buca perché di solito a un certo punto cominciano a mettere buche un po più complesse e io ho detto io giuro che se becco che se becco quel ponte a potrei anche potrei anche farlo apposta ci provo io ci provo così smash non beccare il ponte o come cosa è successo è un verde a un par in due ok basta wow ok uno non ho visto che il par era in tre due come ho fatto come ho fatto seriamente non lo so non non chiedetemi di farlo perché non saprei di farlo allora via sì grazie ma lì mamma mia è disgustoso perché sei così disgustoso meglio fare così vai no no ok con un backspin vai pallina vola e fermati 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 ok questo è perfetto allora potrei davvero ok ci provo ci provo però devo fare così perché la pallina comunque curva un po colpo speciale sarebbe perfetto fare questo vado ok vado meteo storm e sbam guardate di quanto l'ho mancata ok pat per il verde verde e ho fatto il meno sette ok ok adesso devo solamente tenere il meno sette ok in 18 buche in 12 colpi mi sa che va più che bene questo davvero un bel modo per migliorarsi il problema è quando ovviamente non potete più farlo la roccia mi colpisce no vero la roccia mi vuole tanto bene la roccia mi ama non farà mai una cosa cattiva come toccare la mia pallina ok perfetto perfetto dicevo comunque questo sia un buon modo per allenarvi senza distrazioni per distrazioni intendo amici che sicuramente vi danno una mano al gioco no no giocate in single play no davvero no non sono una persona così cattiva però pat per il verde no troppo e no ma tappi mi interessa aver fatto un verde o un par no il meno sette mi basta e avanza da adesso in poi mi sa che userò solamente bowser tanto per sapere chi è il vostro personaggio preferito di questo gioco da usare perché suppongo che le persone che abbiano questo gioco non abbiano fatto solamente la modalità avventura quindi è molto probabile che qualcuno abbia già un personaggio preferito del gioco da usare intendo per adesso bowser mi sembra abbastanza buono nonostante sia un personaggio potenza e di norma i personaggi potenza siano lenti probabilmente questo personaggio ossia bowser sempre perché non è che cambia tanto è buono in questo tipo di golf ma nel golf nello speed golf potrebbe avere un po di difficoltà perché corre più lentamente degli altri ovviamente allora vento così smash ok sul green ma ripeto questo è rosso pat per il verde poco o meno 8 ok va tutto quanto ok adesso meglio che sto zitto meglio che sto zitto vediamo quest'altra buca c'è un ok c'è la lava lì e sono sicuro al 100 per cento che ok no pensavo ci fosse una cosa discesa proprio male cosa ho detto non lo so ma praticamente era un modo per dire che quel punto poteva farci cadere nella lava ed è probabile che lo faccia se non stai attenti quindi attenzione vento così smash nota bene non sto usando nessun tipo di spin se non appunto backspin e topspin perché ho paura pat per il verde pat per il verde pat per il non verde però siamo a 1,2 metri dalla tazza quindi così perfetto far beh è anche il percorso di bowser quindi non posso seriamente sbagliarmi l'ho detto vero perché l'ho detto perché io parlo ok no questo è un problema a meno che non faccia così vediamo un po mi serve da sapere quello ah no fermi 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 è inutile giusto posso usarlo perché dovrei arrivare esattamente lì vai meteor sbam perché si dovrebbe fermare esattamente dove la faccio ok ma è rough ok ho mirato male uops ok potrei davvero perdere adesso no ce la farai bowser mi fido di te ok forse un po' di meno adesso però forse va bene lo stesso vento eheh ok 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 1,3 questo è un par giusto se riesco a farlo ok va tutto quanto immensamente bene qualcuno mi ha detto bowser ha dei categnacci sulle scarpe davvero no non è vero oh mamma mia questa è precisa quanto è in salita scusa di tanto beh non che abbia tanta possibilità di farlo se non così quindi vai con lo smash ok vediamo un po' ho sbagliato oh invece no tongs riesce a fare una cosa chiamata chip in buca birdie però mi sta che questa è una delle poche buche la diciassettesima dove è possibile fare anche albatross se avete fortuna il vento è con voi che la forza sia con voi attenzione davvero e io dirico di no perché non voglio stare attento e invece no devo stare attento perché non voglio rovinare il mio punteggio dai con un backspin con uno smash se era un gran colpo ok vuol dire fairway scusa cosa devo fare adesso è una cosa leggermente fastidiosa perché non capisco cosa devo fare ma ok allora è in alto ma non così in alto il gioco mi trolla vai oh ok sul green ti prego dimmi che faccio oh se riesco a fare un birdie adesso faccio meno dieci oh oh Tom's fa meno dieci ok che non c'era la cpu ma va bene abbiamo quindi visto tutte le buche rimanenti di questo gioco wow si lo so ho vinto con meno dieci nice seriamente molto nice bene così quindi queste sono anche le nostre statistiche undici verdi un non dice che ho fatto un boogie bene bene la media dei pat è di 1,3 green regulation vuol dire che ho fatto bene suppongo bene io sono soddisfatto del mio allenamento questo era un video per mostrarvi che alla fine so giocare a questo gioco ma ho l'ansia quando robe ok quindi adesso vi saluto per davvero e nella prossima parte non ci sarà perché DLC già potrei anche andare un secondo nel golf standard per mostrarvi ogni singolo personaggio e il suo colpo speciale ma lo vedremo comunque in futuro quindi boh see you then bene Grazie a tutti.